Per intercettare impurità non ferrose come residui di lavorazione, calcare o sabbia, Durstop ha al suo interno un filtro a maglie. La maglia filtrante da 800 micron è un ottimale punto di incontro tra la capacità filtrante e la frequenza di pulizia. Per intercettare impurità e la frequenza di pulizia, calcare o sabbia e la frequenza di pulizia.